Hola hermanos e hermanas di Angelica Rebovart che Cosmica, come state? Io molto bene, questa mattina in gran fermento, ho un sacco di idee nuove e... infatti chissà come si evolverà il tutto, questo è il ventunesimo ritratto luminosco e faccio è un ritratto che ho sentito molto potente, di grande potere, che si chiama Il suono incantato è il ritratto di una donna, quasi tutti sono ritratti di donne, soltanto uno di quelli che ho realizzato è il ritratto di un uomo e questo dimostra qualcosa questo ritratto di luce è un acrilico sottela, un 40x50 e la prima cosa che si è mostrata è un uccello del paradiso, un viaggiatore di mondi, un uccello simbolo e molte culture considerato sacro, messaggero di parola divina vi leggo il messaggio angelico la tua voce è suono di mille uccelli, canto di bosche e terra in fiore le parole sono ali che viaggiano tra i mondi, alte cascate che straggono oro liquido dal cuore della terra e lo donano al mondo, acqua cristallina in te è la bellezza di chi sai che ogni viaggio porta al centro e quando il cammino non è chiaro si affida senza timore in ogni regno sei la benvenuta, ogni dimensione si lascia attraversare dal tuo materno sguardo che sa accogliere ed integrare stelle alchemiche si trasmutano in te coraggioso è il tuo polo, arduo è il tuo cammino sei uccello del paradiso a cui ogni segreto è concesso io ringrazio davvero tanto Fabiana per avermi permesso questo viaggio meraviglioso nella sua splendida anima adesso lo preparo per la spedizione lo spedisco e poi sono pronta ad iniziare un nuovo viaggio vi ringrazio a tutti se questo video vi è piaciuto condividetelo continuate a seguirmi sulla mia pagina Angelic Rembo Bartki Cosmica e poi se anche voi volete il vostro ritratto luminoso o per qualsiasi informazione appunto sui ritratti luminosi o sulle altre mie proposte pittoriche contattatemi e vi manderò tutto il materiale informativo di cui necessitate un bacio grande e buona giornata ciao ciao Grazie a tutti